A pochi giorni di distanza dal caso dei quattro casentinesi intossicati per funghi velenosi, un altro caso simile ma più grave balza alla cronaca. Una coppia di coniugi valdarnesi è ora ricoverata in terapia d'urgenza all'ospedale della Gruccia per aver mangiato funghi fritti di diverse specie congelati in precedenza dopo averli raccolti nei mesi scorsi. La frittura è stata mangiata a pranzo dalla coppia, un 58enne e una 54enne e dalla loro figlia di 24 anni. Per sua fortuna quest'ultima ha preso solo un piccolo assaggio mentre padre e madre ne hanno consumato due porzioni importanti. Nelle prime ore dopo il pasto non è successo nulla ma nel pardo pomeriggio sono sopraggiunti dolori addominali, vomito e diarrea. Alle tre di notte quando i sintomi sono aumentati i due coniugi si sono insospettiti e sono andati subito al pronto soccorso della Gruccia dove i medici hanno capito che si trattava di un'intossicazione da funghi velenosi. È stato chiesto alla figlia che stava bene ed era rimasta a casa di portare subito in ospedale altri funghi analoghi a quelli consumati ancora in frigorifero. Il micologo della zona ha subito individuato in mezzo ad altre specie una parafalloidea, nello specifico una lepiota maligna, non un fungo pericoloso come l'amanita falloide ma comunque fortemente tossico. Ai due coniugi sono stati somministrati farmaci per ridurre il dolore e le conseguenze gastroenteriche. Resteranno ricoverati almeno fino a domattina per accertare che i funghi non abbiano provocato danni a reni e fegato. Per la figlia è stato disposto un periodo di 24 ore di osservazione a casa non essendo emersi sintomi o malori. L'ASL rinnova dunque il consueto appello a chi raccoglie funghi. Prima di consumarli è bene portare in visione l'intero raccolto ai micologhi del Dipartimento della Prevenzione che hanno sedi in ogni vallata e che li esamineranno gratuitamente.